Siamo ucciti i primi giorni che sono stati in condizione meteo per le partenze, effettivamente abbiamo trovato emergenze in mare, abbiamo risposto alla prima, dopodiché è stato subito assegnato il porto dell'Espezia, abbiamo preso la ruota verso il nord, nel tragitto abbiamo ricevuto altre segnalazioni, situazioni di emergenza in mare, siamo andati a cercare... Come avete ricevuto queste segnalazioni e quanto erano distante le altre? È qui che nasce con la polemica, però spiegaci. Sì, ma la distanza non è il punto qui, se qualcuno sta prendendo cura, sta prendendo attenzione di questa situazione di emergenza, è stato comunicato che nessuno aveva preso cura di quello, allora noi abbiamo avuto l'obbligo di andare a prescindere dalla distanza, quando andavamo a questa alerta è spuntata un'altra, quindi abbiamo trovato che era molto più vicino di noi, abbiamo fatto questa terza, che l'abbiamo fatto seconda, diciamo, e una volta finita questa situazione abbiamo continuato a cercare quella segnalazione che abbiamo ricevuto, l'abbiamo trovata, un'altra volta le autorità italiane ci hanno segnato il porto dell'Espezia, abbiamo messo la ruota verso il nord e ci siamo qui. Ecco, avere una rotta così lontana, 100 ore di navigazione è stato un problema grosso? Sicuramente, quando si può fare sbarcare molto prima, eravamo molto vicino di Sicilia, e ovviamente se le persone si devono sprazzare per il territorio, ci saranno altri mezzi senza fare soffrire alle persone quattro giorni di navigazione, in un posto che veramente non è confortabile per nessuno che è abituato al mare. Ecco, i migranti sapevano di sbarcare in Sicilia e poi avete detto voi che sarebbero andati in Liguria, al nord dell'Italia? No, i migranti veramente non sanno dove sarebbero sbarcare, loro cercano sicurità, scappano dalla violenza sistemata organizzata dalla Libia, poi arrivare a un posto dove la sua vita, la sua condizione non è in pericolo, allora... Si sentivano già al sicuro con voi? Sì, ma non tanto, perché sempre c'erano l'ansia, c'erano questa cosa, che hanno fatto questo tentativo di attraversare tante volte, intercettato tante storie, più di cinque volte per la Guardia Costiera Libica, riportate in questo centro di detenzione dove soffrono tutta questa violenza, allora finché non arrivano in porto non sono sicuri che la sua situazione è al sicuro, no? Allora sempre hanno una grande sfiducia e guardano il sole per vedere se stiamo andando verso il nord, verso il sud, eccetera, perché hanno una grande paura, solo adesso è il momento vero di sollievo. Ecco, sapete che voi rischiate il fermo della nave e anche una maxissanzione in base alle direttive ministeriali? Buon, al nostro modo di vedere la situazione non lo rischiamo, non vuole dire che non riceveremo una notificazione, ma abbiamo fatto quello che viene fatto, quello che il capo del reparto 3 della Guardia Costiera ha spiegato in commissione, pure che il ministro dell'interno ha detto che ci si sta una situazione ulteriore di pericolo, le barche, i comandanti devono rispondere. È stato esattamente quello che abbiamo fatto, stiamo a sbarcare, se non ci sono obiezioni andremo via il proprio peso. Il capitano norvegese della nave è stato già interrogato, comunque avvicinato dalla polizia di frontiera? Sì, si hanno fatto le procedure di routine in ogni porto, sono saliti appena arrivati al porto, poco tempo dopo andati via, quindi niente di particolare. Ci puoi raccontare a bordo com'è stato questo viaggio fra i migranti? È stato dosso, c'avevo un bel po' di minore, un terzo delle persone erano minore, molto giovane, circa dieci bimbi piccoli, allora gestire queste persone in una barca, in un posto sicuro, è sempre una sfida e parlando con loro tutte le situazioni di violenza che hanno subito hanno bisogno veramente di cura psicologica.